Dal desiderio di creare una raccolta di canti natalizi, nasce l'idea del professor Enzo Puglino, scrittore, poeta e storico di Corigliano, di chiamare una raccolta alla maggior parte dei musicisti della sua scientificità, ai quali affidare il compito di musicare poesie e scritti, a tema natalizio, di altrettanti scrittori e poeti coriglianesi. Il risultato è magistrale e unico nel suo genere. Una raccolta di canti natalizi, unicamente coriglianesi, nei testi e nella musica, che probabilmente nessun'altra città non può portare. Il brano, dal titolo Benvenuto figlio, Buon Natale, tratto dal testo della professoressa Rosa Maria De Lores, e che ascolterete tra poco, è stato composto per Corpo Lefoni fa 4 luci, dal maestro Alfonso Ponte. Il brano, dal titolo Benvenuto figlio, Buon Natale, Il brano, dal titolo Benvenuto figlio, Buon Natale, tratto dal titolo Benvenuto figlio, Buon Natale, Il brano, dal titolo Benvenuto figlio, Buon Natale, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.